Tutto ha un suo momento e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo. Ogni uomo, è quasi banale osservarlo, nell'arco della sua esistenza si trova a demolire e a costruire, a piangere e a ridere, a far lutto e a danzare. In definitiva, come conclude con potente sintesi il saggio, a nascere e a morire. L'esistenza allora si riduce ad una ineluttabile alternanza di vicende da subire? O è possibile viverla da protagonisti? L'uomo può essere effettivamente se stesso, dentro ogni circostanza, anche quella più inattesa, sconcertante, sfavorevole. Sono domande realissime e decisive, di fronte alle quali questa sera la liturgia mette tutti noi, qui convenuti in occasione dell'ottavo anniversario della morte del carissimo Servo di Dio, Monsignor Luigi Giussani, per ringraziare il Signore del riconoscimento pontificio della Fraternità di Comunione e Liberazione. La Chiesa, nostra indefettibile madre e maestra, comunque il mondo la dipinga, non cessa di offrirci i criteri fondamentali per trovare una risposta adeguata a questi drammatici, in senso letterale, interrogativi che, volenti o nolenti, attraversano il cuore di tutti. Di questi criteri cerchiamo, anzitutto, di cogliere brevemente il nucleo centrale, tanto più che il carisma donato dallo Spirito a Don Giussani continua a rendere questi criteri storicamente persuasivi per la vita di molti fedeli in tutto il mondo. Qual è questo nucleo centrale, fondamentale? L'unica prospettiva per giudicare ed accogliere fino in fondo ogni circostanza ed ogni rapporto è la loro verità ultima. Per illustrare questo dato fondamentale, Don Giussani, il cui pensiero sorgivolo conduceva sovente alle acquisizioni più pregnanti del pensiero contemporaneo, per illustrare questo dato fondamentale, ha fatto ricorso alla parola destino, l'ha spogliata dal carattere di cieca necessità e l'ha invece riproposta alla libertà come criterio di verità definitiva per o contro il quale la libertà dell'uomo è chiamata in ogni azione a decidersi. Quanti volte ci siamo invitati, ci siamo sentiti invitati da Lui a guardare e ad amare ogni cosa ed ogni persona per il suo destino. La liturgia di questa messa votiva del Santissimo nome di Gesù che stiamo celebrando sottolinea con forza questo dato del destino come verità ultima attraverso l'insistente richiamo al cielo e alla vita eterna. Diremo nel prefazio, tu hai inviato a noi il tuo unigenito perché ci chiamasse a condividere la gloria eterna del tuo regno. Quindi la vita eterna è il destino dell'uomo, ma fatto sorprendente e felice il prefazio ci dice il nome mirabile che strappa il tema del destino dal rischio di essere relegato in un remoto ed astratto dopo la morte. E qual è questo nome? E' il Santissimo nome di Gesù, il verbo fattosicarne. Il nostro destino è presente a noi fin da ora, vive con noi nella storia. e l'Eucaristia a cui stiamo partecipando è già in germe, come ci ha ricordato il finale del brano evangelico di oggi, la nostra risurrezione, la nostra vita per sempre. Il singolare episodio del Vangelo di Marco che abbiamo appena ascoltato, anche se a noi può risultare un po' ostico, è una conferma critica, cioè piena di buone ragioni di che cosa significhi il destino dell'uomo. Gesù è la verità vivente e personale all'opera nella storia, nella mia storia personale, nella tua, nella nostra storia, nella storia della Chiesa e di tutta la famiglia umana. I Sadducei, volendo mettere in difficoltà Gesù, gli sottopongono una questione particolare, decisiva, provocatoria, relativa al matrimonio e alla discendenza. Si tratta, in fondo, della verità sul rapporto tra l'uomo e la donna nel matrimonio, in modo particolare del suo essere ordinato alla fecondità. Nonostante la cosiddetta rivoluzione sessuale e la diffusa prassi di una sessualità tutta ripiegata su se stessa, l'uomo e la donna hanno bisogno di sapere che il loro amore oggettivo ed effettivo sarà fecondo. Bisogna saperlo, perché alla fine di un'esistenza terrena la cartina torna sole è la fecondità in senso fisico e spirituale. Qual è la risposta di Gesù? Egli situa la verità di questo fondamentale desiderio nella prospettiva del destino. Esso, desiderio, sarà compiuto definitivamente nel rapporto personale ed eterno con il Dio vivente che valorizzerà ogni rapporto rispettandole nello stesso tempo la singolarità e l'apertura universale e totale. La sequela di Cristo già ci abilita a vivere così nonostante il nostro limite. E come ci abilita a vivere così? Sottolineando il valore straordinario del matrimonio indissolubile fedele e aperto alla vita. A partire da questo criterio fondamentale Gesù destino dell'uomo gli interrogativi brucianti del Coelet perdono ogni rischio ogni sapore di dubbio scettico perché Gesù destino dell'io ci accompagna e ci custodisce dentro ogni circostanza ed ogni rapporto. Certo questo non avviene senza che emerga in noi se non emerge in noi in pienezza responsabile il soggetto che la fede per grazia genera e lentamente conduce a maturazione. Domandiamoci come l'esperienza dell'io credo nel grembo ecclesiale del noi crediamo promuove la nascita e accompagna la crescita di un soggetto simile capace di amare e di lavorare. Due sono i fattori da considerare in proposito. Essi sgorgano proprio dal criterio prima richiamato di Monsignor Giussani guardare e amare ogni cosa e ogni persona per il suo destino. Anzitutto il primo criterio Gesù assicura l'unità dall'origine fino al compimento del singolo della storia umana e del cosmo. il primo atteggiamento quindi è l'indomabile passione per l'unità come orizzonte compiuto dell'esistenza. Unità dell'io della mia persona rigenerato in Cristo unità della compagnia vocazionale che le varie forme di realizzazione della Chiesa offrono unità tra tutti i carismi i ministeri tra tutti i fedeli e soprattutto con il Papa i Vescovi in comunione con lui unità del genere umano. Non a caso in proposito Don Giussani ricordava l'amicizia è il luogo dove l'amore al destino dell'altro è costitutivo del vivere insieme. l'amore al destino dell'altro affinché questa esperienza di unità non si riduca come spesso capita nelle nostre comunità cristiane e nella nostra società civile a pura esortazione bisogna riconoscere un secondo atteggiamento proprio di un cristiano maturo l'atteggiamento della confessione bisogna intenderci bene su cosa significhi in pienezza questa parola l'uomo non ha paura di muoversi libero entro la realtà se sta spalancato e nudo di fronte alla presenza del destino vivente se si lascia scrutare fin nel profondo dallo sguardo di Dio come imparavamo da bimbi Dio è ovunque e ti vede sempre come è necessario alla nostra libertà abbandonarci nudi a questo sguardo se l'uomo si muove così se sta in questo atteggiamento di confessione allora egli è disposto non solo a riconoscere di aver sbagliato e di pagare il tempo dell'espiazione ma soprattutto impara che un atteggiamento stabile di confessione è garanzia di verità per ogni sua azione se c'è una cosa che manca nelle nostre comunità cristiane è questo atteggiamento di confessione la croce di Cristo morto innocente per noi domanda invece questo modo di stare nudi di fronte allo sguardo di Dio che ti ama in Gesù perché tu ti lasci realmente scrutare alla ricerca della tua verità piena alla ricerca del compimento del tuo destino la croce di Cristo esige questo lui l'innocente che così si pose di fronte al Padre quando fu attraversato nel costato nelle mani e nei piedi da tante ferite noi di solito invece sfuggiamo da questa attitudine di confessione tanto ostinatamente il nostro io ogni mattina al risveglio pretende sempre su di sé le luci della ribalta sempre su di sé sempre in primo piano sempre protagonisti ad ogni costo Don Giussani parlava in proposito della figura piena della moralità cristiana come ripresa continua ripresa l'ascesi sta proprio lì non nel non sbagliare o nello scivolare basta ma nella ripresa continua ma per capire fino in fondo quanto sia importante questo atteggiamento di confessione in ogni rapporto in ogni incontro in ogni circostanza facciamo un piccolo passo ulteriore alla recente assemblea del sinodo dei vescovi il papa ha legato la parola confessione alla parola martirio ha detto che non basta professare la fede bisogna confessarla perché per confessarla si deve pagare di persona il martire il testimone è colui che esponendosi per primo rende possibile l'incontro tra la libertà di Dio e la libertà degli uomini infatti sempre l'avvenimento dell'incontro con Gesù risorto passa attraverso un altro avvenimento l'incontro da esperienza a esperienza con il testimone ma anche qui dobbiamo intenderci la testimonianza non è solo buon esempio questo è semplicemente riflesso dell'umana dignità quando tende alla sua verità la testimonianza è conoscenza della realtà e quindi è comunicazione della verità conoscenza della realtà attraverso il testimone e quindi comunicazione a nostra volta come testimoni della verità l'umile e sorprendente gesto compiuto ieri da Benedetto XVI non dilata forse il nostro modo di conoscere di imparare che cosa sia una vita piena che sa stare di fronte a Gesù destino dell'uomo e questa posizione di testimonianza di conoscenza della realtà non viene così comunicata come tutti i media stanno documentando a loro modo evidentemente non viene così comunicata a tutta la famiglia umana conoscenza per testimonianza comunicazione della verità per testimonianza un ultimo passaggio il carisma pedagogico del servo di dio don giussani è sorto prodotto dalla potenza dello spirito per comunicare Gesù in tutti gli ambienti dell'umana esistenza si può dire che la sua peculiare e providenziale natura sta in questo carattere di incarnazione di immersione come fece Gesù che non disdegnò di abbassarsi fino ad assumere la nostra umanità di immersione nella realtà totale allora mi è sorta una domanda che voglio rivolgere a tutti i cristiani della diocesi e a voi questa sera nella rapida trasformazione oggi in atto quali sono gli ambienti dell'umana esistenza in cui portare Gesù io credo che quelli delle stanche chiese di Europa e dei provati paesi in cui esse vivano siano diventati ambienti decisivi dell'uomo del terzo millennio mi permetto pertanto di suggerire che in essi i cristiani assecondando il disegno di Dio si sentano chiamati a testimoniare la logica dell'incarnazione a partire a partire dalle situazioni vocazionali di ciascuno quelle quotidiane come la scuola il lavoro i quartieri la società l'economia la politica ma ma con un orizzonte largo con un largo respiro con un orizzonte cattolico di cui ha bisogno la nostra Europa documentare questa presenza capillare negli ambienti quotidiani documentare attraverso la conoscenza e la comunicazione testimoniale della bellezza della fede alla crisi della fede europea che minaccia tutto l'orbe che secondo Benedetto sedicesimo può condurre al tedio dell'essere a questa crisi testimoniate rischiando di persona che il cristianesimo è l'umanesimo veramente e pienamente umano di cui nessun uomo libero può aver timore questo compito già vi vede all'opera lo spirito non mancherà se necessario di suggerire nuovi passi cari amici nel salmo abbiamo ascoltato una cosa una cosa al signore domanda questa solo io cerco abitare nella casa del signore ogni giorno di vita il destino che già è in atto come ambito della definitività e che si compirà nell'abbraccio del padre dove don giussani ora si trova e da dove ci accompagna possa essere questo otteggiamento ogni giorno di più il desiderio del cuore la forza propulsiva di ogni pensiero e giudizio di ogni decisione ed azione la memoria di questa sera non sia ricordo ma sia edificazione del presente e quindi sguardo al futuro il carisma dell'incarnazione domanda questa apertura invochiamo dunque dallo spirito questo gusto di vita nuova affidandoci anche questa sera come tutte le sere alle braccia della Madonnina Amen